È il momento della rubrica Storie di Sport che realizziamo in collaborazione con la Fondazione per lo Sport. Oggi parliamo dell'attività del CSI di Reggio Emilia e lo facciamo con Giovanni Codazzi che è coordinatore dell'attività sportiva. Buongiorno. Buongiorno a tutti. Allora facciamo un po' il punto sulla vostra attività in questa seconda parte del 2021. Allora diciamo che questo 2021 si è diviso sicuramente in due parti. Allora abbiamo cominciato ovviamente con un inizio di anno molto complicato, un po' come tutti, ma voi sapete molto bene che lo sport ha subito al pari di altre categorie molto la situazione della pandemia. E quindi naturalmente l'inizio dell'anno è stato molto complicato. Siamo rimasti molto al passo con quelli che sono stati i decreti governativi. Appena abbiamo avuto un piccolo spiraglio per far fare qualcosa, soprattutto ai giovani, lo abbiamo fatto. Ma questo si è tradotto in un inizio dell'attività agli inizi di maggio, precisamente il 3 di maggio e una conclusione più o meno intorno alla fine del mese di giugno. Dopodiché ci siamo concentrati sulla nuova stagione sportiva che è cominciata più o meno alla metà del mese di settembre circa e che adesso diciamo volge al termine della fase autunnale. Ecco, quella che possiamo considerare fase autunnale. Stiamo infatti facendo soprattutto, stiamo svolgendo soprattutto tornei invernali, soprattutto giovanili, ma anche per gli adulti, che si concluderanno più o meno alla fine di questa settimana per la pausa natalizia che si protrerà fino dopo l'epifania. Insomma, ecco, quindi crediamo che tra l'altro queste due settimane di fermo possano essere utili un po' anche per resettare alcune situazioni che adesso si stanno presentando purtroppo con l'aumento, il nuovo aumento dei contagi e quindi insomma forse un paio di settimane di stop possono essere utili per limitare un po' il problema perché effettivamente stiamo cominciando a risentirne di nuovo, non ovviamente come era all'inizio dell'anno, come ho detto poc'anzi, ma stiamo iniziando a risentirne un po'. Ecco, in che modo poi avete superato le difficoltà che ci sono state evidentemente, come ricordava anche lei, nella prima fase di questo anno a causa della pandemia? Sicuramente, cioè, l'applauso è da fare alle società sportive in primis, perché hanno sofferto molto la situazione e di riflesso ovviamente l'abbiamo sofferta anche noi, l'abbiamo sofferta anche noi come centro sportivo su tutto il territorio nazionale, perché non dimentichiamo che il CSI è poi un ente di promozione sportiva radicato in tutta Italia, insomma, per cui è stata una sofferenza. L'abbiamo superata con tanta pazienza, cercando di mantenere vivo il rapporto con le società sportive, come si poteva fare, quindi anche con proposte alternative, quindi ci siamo concentrati sulla formazione di allenatori, sulla formazione di arbitri, su corsi fatti per le società sportive, anche di altre tipologie, insomma, cercando di uscire un po' da quello che è il seminato dell'attività sportiva canonica, quindi ci siamo concentrati, per esempio, non so, mi viene in mente i giochi da tavolo, per esempio, insomma, che è una cosa molto importante adesso, perché tra l'altro è una chiave importante per entrare anche all'interno delle scuole attraverso la didattica ludica, quindi ci siamo concentrati su altre cose. Adesso stanno ripartendo i corsi di formazione sia per gli arbitri che per gli allenatori, a brevissimo usciranno i corsi allenatori che facciamo in collaborazione con Palacanestro Reggiana, con Reggiana e con Volley Tricolore, che si prestano con professionalità e competenza a formare i nostri allenatori, ed è un modo per tenere legate le società sportive anche con dirette, insomma, cerchiamo, abbiamo cercato durante la pandemia di tenere vivo il rapporto con le società e ripeto, come ho detto prima, quando ci è stato consentito farlo in sicurezza e rispettando regole rigorose, perché ricordiamo che il CSI ha un protocollo sportivo ben definito, studiato a livello nazionale insieme all'Università Cattolica di Roma e quando abbiamo potuto siamo ripartiti con entusiasmo e devo dire che le società hanno risposto molto bene. Ecco, a proposito di questo, le volevo chiedere, durante i mesi più duri della pandemia, spesso abbiamo parlato appunto di sport, delle difficoltà, degli stop e ci domandavamo che tipo di impatto ci sarebbe stato sulle società sportive alla ripartenza? Ecco, come è stato? Cioè, tutte le società sono riuscite a ripartire nel vostro osservatorio oppure ci sono state alcune società che non sono ancora ripartite? Allora, diciamo che per quella che è la nostra percezione è chiaro che c'è stato un calo dei tesserati rispetto ovviamente ai numeri degli anni passati, ovviamente parlo del 2019-2020 perché il 2020-2021 non è stato un anno da utilizzare come termine di paragone in quanto è stato falsato anch'esso. Al momento comunque siamo quasi a 25 mila tesserati da inizio settembre pertanto insomma è chiaro che la risposta c'è, le società hanno risposto quasi tutte però è chiaro che c'è stato un calo perché purtroppo, soprattutto nelle fasce giovanili c'è stato un abbandono dello sport o comunque anche uno spostamento verso sport non di squadra qualcosa sicuramente molto positiva ma il movimento dello sport di squadra chiaramente ha avuto un calo soprattutto in certi settori, non in tutti, soprattutto gli sport indoor ovviamente hanno sofferto di più però insomma credevamo molto peggio per essere sinceri. Senta, le volevo chiedere, un po' ci è nato anche prima i vari campionati, volevo però chiederle un quadro dei campionati che sono attivi, anche un po' di dirci quali sono i numeri attuali del CSI. I campionati sono tutti attivi, quindi tutti gli sport che abbiamo proposto all'inizio dell'anno sono tutti attivi, quindi calcio 11, calcio 5, calcio 7, pallacanestro, pallavolo e ovviamente gli sport individuali iniziano sempre un pochettino più in là rispetto agli sport di squadra però inizieremo il 19 di dicembre, abbiamo la prima prova di un circuito interprovinciale di nuoto che facciamo in collaborazione con gli amici del CSI di Parma e poi avremo a inizio dell'anno, più o meno a fine gennaio l'inizio del campionato provinciale di corsa campestre e seguiranno prove di ginnastica artistica e ginnastica ritmica, quindi bene o male tutti gli sport sono ripartiti, tutti i campionati sono ripartiti, abbiamo come detto prima circa 25 mila tesserati, quindi a livello proprio di tesseramento, è chiaro che ripeto ci sono stati dei cali in alcuni sport, la pallacanestro ho visto una leggera flessione ma come detto prima credevamo molto peggio, abbiamo quasi 38 squadre di pallacanestro per quanto riguarda gli adulti, per quanto riguarda i bambini abbiamo più di 70, quindi insomma siamo molto contenti perché alla pallacanestro avevamo sinceramente timore che fosse, insomma vedesse un calo molto grosso perché purtroppo insomma è uno sport indoor, uno sport di contatto eccetera, la pallavolo ha avuto una flessione ma abbiamo riscontrato questo problema su tutto il territorio nazionale, il calcio bene o male ha tenuto e il calcio a sette soprattutto per quanto riguarda gli adulti è in grande crescita, abbiamo avuto un boom di iscrizione del calcio a sette perché è uno sport all'aperto, ci vogliono non tante persone, si gioca sempre perché si gioca su campi in erba sintetica e quindi insomma e poi avremo anche delle nuove attività poi nella seconda parte dell'anno che partiranno. Ecco quali sono queste novità e questi nuovi progetti del 2022? Beh il grande progetto del 2022 sicuramente e della stagione 2021-2022 sicuramente il padel, quindi quello insomma abbiamo insomma appena inaugurato da un mese esatto, ho inaugurato un impianto nuovo di padel presso la nostra sede composto da due campi di cui adesso uno in realtà è solamente attivo perché l'altro è scoperto ma speriamo di coprirlo quanto prima perché il padel è importante in quanto sì è vero che è uno sport diciamo che adesso è molto in voga ma in realtà è uno sport molto importante perché era uno dei pochi sport che continuava ad essere attivo anche nei periodi diciamo così più duri per lo sport insomma quindi periodi di chiusura in quanto sport è considerato sport individuale. Tra l'altro stiamo orientando la nostra insomma la nostra proposta anche verso progetti verso le scuole e insomma allargarlo a una più ampia fetta della cittadinanza perché ovviamente si sa che il padel generalmente frequentato soprattutto da una fascia d'età dai 25 andare in su vogliamo calare l'età in quanto il CSI come targeta sicuramente i giovani di conseguenza è importante valorizzare questo sport anche fra i giovani fra i giovanissimi quindi importante la collaborazione con le scuole poi nel 2022 a dio piacendo c'è il settantesimo del torneo della montagna questo è molto importante perché è un insomma è un è un compleanno importante che vogliamo festeggiare in maniera il più possibile dignitosa compatibilmente con la situazione quindi speriamo che questo maledetto virus ci lasci in pace e il più possibile per festeggiare bene i 70 anni di questo torneo perché ricordiamo che di tornei più vecchi di 70 anni in Italia ce n'è solo uno che è il torneo di Viareggio e poi c'è il torneo della montagna quindi secondo me bisogna che facciamo qualcosa di fatto bene insomma siamo già al lavoro ovviamente non posso spoilerare niente però sarà appunto se le norme lo consentiranno e speriamo se la situazione lo consentirà e speriamo tutti e sia così sarà una bella festa ci par di capire è un bel torneo sì 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 anche perché è un torneo che è mancato molto all'appennino e insomma vuol dire turismo sportivo vuol dire feste vuol dire gente in montagna vuol dire insomma delle comunità che si ritrovano intorno a un campo da calcio e quindi insomma è una cosa molto importante per noi per la montagna e per le società sportive sarebbe un bel segno di ripartenza e di rinascita ne riparleremo naturalmente intanto grazie grazie a Giovanni Codazzi del CSI di Reggio Emilia grazie